bentornate sul mio canale oggi volevo condividere con voi e farvi vedere i filati che mi sono arrivati ieri che ho preso da merceria flavia sono tre filati molto molto belli e molto particolari allora uno di questi filati è l'happy evening dell'happy fill e praticamente questo filato non so se si riesce a vedere la morbidezza di questo filato sono gomitoli da 50 grammi per 90 metri ed è un 100 per cento microfibra che si può lavare a 30 gradi e la casa ci consiglia l'uncinetto del 55 e mezzo ma secondo me possiamo lavorarlo anche con il 6 perché vedete a questa diciamo questa peluria ed è lo rende proprio morbidissimo e questo è un filato che fa parte della misteri e microfibra e io nella busta diciamo a sorpresa non ho scelto i colori ho fatto casuali e quindi mi è capitato questo blu bellissimo ecco forse da qui si vede meglio vedete è morbidissimo il pacco è un pacco da 10 secondo me ha anche un'ottima un'ottima resa quindi non ci resta che poi provarlo a lavorare ma comunque già toccandolo e si vede che è molto molto morbido poi l'altro pacco a sorpresa della misteri è l'epicromo sempre epifil invece questi sono 50 grammi per 165 metri quindi ha un ottimo metraggio ma anche questa se anche se sono 50 grammi per 90 metri secondo me ha anche una buona risa anche questo questo è praticamente la composizione è il 18 per cento lana 25 per cento poliestere metallico che sarebbe il filo luminoso non so se si riesce a vedere che al suo interno poi il 30 per cento microfibra pc e 27 per cento poliammide e anche questo è un colore a sorpresa perché io non ho voluto scegliere ho preferito visto che da tanto tempo che prendo i filati da flavia a quando sembra lei ha indovinato proprio nei colori perché questi sono due colori che a me piacciono tantissimo poi siccome flavia ha trovato un nuovo filato molto particolare e nel pacco mi ha messo giusto giusto il quantitativo per realizzare un progettino e poi non è sul sito mi ha chiesto se potevo provarlo e io ho detto di sì e quindi mi ha inviato la quantitativa giusta per un progettino per vedere un po la resa e com'è questo filato e adesso ve lo presento se poi volete qualcuna tra virgolette un po contattare la merceria io vi metto il link diretto di whatsapp dove potete parlare direttamente con flavia e chiedergli qualcosina in più di questo filato ed è il forse season è della mistrico questi questa questo filato ha una composizione molto particolare particolare perché perché la diciamo la composizione del filato è un 10 per cento alpaca un 19 per cento tens 52 per cento cotone 19 per cento poliammite sono gomitoli da 100 grammi per 250 metri quindi anche in questo caso ha un'ottima resa e il 19 per cento di denzel che cos'è è una fibra artificiale estratta dal dalla pianta dall'albero dell'eucalipto ed è una fibra molto molto resistente che in questi ultimi anni viene utilizzata per i tessuti e hanno provato ad utilizzarla anche per i filati quindi è molto resistente e infatti questo tipo tipologi questa tipologia di filato con questa percentuale può essere lavato anche a 40 gradi inoltre è traspirante ed assorbe l'umidità quindi anche in questo caso se voi vi ricordate nel filato da da c'era anche lì una fibra estratta dall'albero di faggio ed era una seta sintetica mentre in questo caso il tencel è sempre una fibra sintetica ma estratta dall'albero d'eucalipto che praticamente essendo molto resistente i nostri progetti durano nel tempo e poi comunque essendo un filato traspirante è ottima questa cosa e assorbe l'umidità e anche in questo caso cosa è una cosa ottima anche questa e quindi come ripeto flavia voleva farmelo vedere e come dire farmelo anche provare in un progetto e io come mi è arrivato il pacco ho provato praticamente subito a sentirlo quindi anche questo è molto ma molto morbido al tatto è scorrevole si lavora benissimo io lo sto lavorando appunto con il 6 perché qua ci consiglia l'uncinetto del 6 e è un filato che a me piace tantissimo e quindi sarà il primo che utilizzerò per realizzare un progetto infatti ho avviato già il progetto ve lo faccio vedere eccolo qui e vi dirò che lavorato questo filato è stupendo non so se riuscite a vedere ma vederlo bene ma vi posso garantire che è uno spettacolo soprattutto sapere che è un filato che traspira che comunque dura nel tempo anche se facciamo lavaggi a 40 gradi che non tutti i filati posso resistono a questo tipo di lavaggi quindi lo ritengo un filato molto molto particolare e molto bello e quindi sicuramente dirò a flavia che quando uscirà il tutto il mio progetto può già farmi un'ottima offerta però come ripeto sotto alto al a questo tutorial diciamo vi lascio il link diretto al whatsapp in modo tale che se siete interessate e volete saperne un po di più potete già contattare flavia per ulteriori informazioni quindi poi sempre con la misteri mi è arrivato il borsello quello aiuta che anche questo molto molto comodo quindi ripeto ci tenevo a condividere con voi questi filati che ho preso e a spiegarvi un po questo filato di cui flavia mi ha chiesto se potevo lavorarlo per provarlo è una bellissima sensazione nel toccarlo non so se si riesce a vedere dalla dalla telecamera ma è bellissimo sono tutti stupendi anche l'epicromo è molto molto bello molto soffice anche perché c'è comunque la microfibra e per non per per non dire dell'epi evening questa è una microfibra proprio 100 per cento quindi è morbidissimo anche questo quindi cosa dirvi ragazze spero che vi sia cioè io sia stata cioè ossia questo mini tutorial sia stato piacevole che vi ha fatto piacere che io ho condiviso con voi questi filati che ho preso e cosa dirvi ancora ci vediamo tranquillamente con un successivo progettino e che come ripeto realizzerò con questo filato in full season quindi vi auguro una buona giornata e noi ci vediamo in un prossimo tutorial